Musica Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con speciale elezioni, proseguono le nostre tribune elettorali per le comunali del prossimo 26 di maggio. Ormai ci siamo, inizia la penultima settimana di campagna elettorale piena, inizia anche sulla nostra emittente con un nuovo confronto tra i candidati. Questa sera riflettori del nostro studio accesi sul comune di Città Sant'Angelo che eleggerà il proprio sindaco e il nuovo consiglio comunale. Lo farà scegliendo tra quattro liste e quattro candidati sindaci che sono tutti nei nostri studi. Io li ringrazio per aver accolto il nostro invito e sarà questa l'ultima tornata elettorale in cui Città Sant'Angelo sceglierà il sindaco direttamente al primo turno. Perché l'eventualità del ballottaggio si porrà dalla prossima campagna elettorale tra cinque anni perché il comune ha appena raggiunto la soglia dei 15 mila abitanti. Questo anche per dare l'idea della rilevanza di questa città nell'ambito della provincia di Pescara ma anche insomma con un nome internazionale che già ha ottenuto in questi anni una città molto nota. Peraltro Città Sant'Angelo ha la possibilità di scegliere tra quattro candidati sindaci in concorrenza tra di loro che sono sostenuti da liste civiche perché lo sono proprio per la natura stessa di questo turno elettorale per la scelta dei sindaci ma all'interno di queste liste civiche ci sono anche formazioni politiche. E questo è il senso della prima domanda che io forrò loro per presentare intanto questa lista coalizione che li sostiene e anche se stessi insomma per farsi conoscere più da vicino dai concittadini elettori. Abbiamo effettuato un sorteggio preliminarmente all'inizio di questa trasmissione e risponderanno nell'ordine stabilito dal sorteggio stesso alla prima domanda poi alterneremo tra le varie risposte. Li saluto e ringrazio nuovamente, li presentiamo nell'ordine e si presenteranno da soli rispondendo alla prima domanda che è appunto quella relativa al candidato sindaco e alla lista. Breve curriculum e presentazione dei candidati. Il primo ad essere sorteggiato è stato Matteo Perazzetti che guida la lista coalizione Siamo Città Sant'Angelo. Grazie signor direttore. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono Matteo Perazzetti, consigliere comunale che ha svolto il suo ruolo in questa ultima legislatura insieme ai colleghi Travaglini e il dottor Maurizio Valloreo. Noi il nostro progetto politico lo abbiamo portato avanti sin dal primo giorno dell'inizio della consigliatura scorsa nel momento in cui abbiamo preso un impegno con i cittadini e lo abbiamo portato avanti in maniera costante e proficua con diversi incontri con i cittadini nelle diverse zone della città. Abbiamo voluto dare questa prosecuzione di questo progetto civico e lo abbiamo allargato anche ai vari partiti del centrodestra che sono venuti a convergere su quello che era stato il nostro impegno in questi cinque anni. Un impegno che è stato riconosciuto anche nell'ultimo consiglio comunale dalla stessa maggioranza che ha riconosciuto in noi come l'opposizione più proficua e più tosta, così è stata definita dallo stesso sindaco attuale di Città Sant'Angelo. Abbiamo voluto dare questa continuità perché siamo stati il gruppo consigliare che nella storia di Città Sant'Angelo ha prodotto più documentazione e è riuscito a portare più risultati a casa per i cittadini. Il nostro progetto, come abbiamo detto, è sì condiviso anche dai partiti del centrodestra ma abbiamo voluto selezionare le persone che compongono la nostra lista prendendo in considerazione le proprie attitudini e le proprie professionalità. Abbiamo voluto rompere quello schema, un attimino stereotipato, della divisione politica per poter scegliere le migliori persone per Città Sant'Angelo. Siamo 16 candidati, siamo l'unica lista da avere 16 candidati al Consiglio Comunale candidati al Consiglio Comunale e ci presentiamo per governare. Abbiamo dimostrato in questi cinque anni che idee ne abbiamo, abbiamo dimostrato che passione ne abbiamo e certamente da amministratori riusciremo a portare avanti questo progetto. La cosa è che il nostro progetto parte e pone le basi nel voler costruire una comunità perché Città Sant'Angelo ha bisogno di costruire questa comunità, una comunità unita, una comunità intera. Città Sant'Angelo oggi ha nei suoi indicatori più rappresentativi come la raccolta differenziata, come il piano regolatore generale che è l'organo o che è il metodo di armonizzazione territoriale, vetusto oramai più da 25 anni che non viene più revisionato. Bene, sono indicatori importanti nello sviluppo della nostra città. Ecco perché il nostro hashtag è avanti veloce. Dobbiamo recuperare quella strada che purtroppo si è persa per tantissimo tempo. E noi ce la metteremo tutta. Grazie Verazzetti. Secondo sorteggiato Arturo D'Addona di Città in Comune, azione politica. Azione politica abbiamo conosciuto già in precedenti tornate elettorali, è un movimento che fa riferimento a Gianluca Zelli, che si è in qualche modo apparentato anche con altre forze cittadine. Ma ci spiegherà meglio lei il DNA della sua coalizione. Buonasera, sono luogotenente dei Carabinieri, in servizio attualmente presso una sezione operativa del comando di Chieti. Sono stato quasi per 20 anni al comando della stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo e che in tale periodo ho avuto modo di conoscere bene tutto il territorio, i cittadini che la compongono. Siamo stati ad operare nel territorio con grande determinazione e questo mi ha permesso di conoscere bene il territorio e tutte le criticità che lo hanno portato a far sì che io avessi una grande competenza sul territorio. I cittadini sono stati da me avvicinati in ogni momento quando ci sono state delle richieste per risolvere i loro problemi. Io mi sono posto sempre al loro servizio e sono riuscito a rispondere alle loro esigenze. Il mio curriculum è formato da vari riconoscimenti per aver operato in altri punti d'Italia ma soprattutto a Città Sant'Angelo nell'ultimo periodo dove sono stato ben distinto e sono stati riconosciuti la mia professionalità anche dal comando e dal ministero. Questo ha fatto sì che io essendo stato vicino ai cittadini ho potuto quindi stare vicino a loro e rispondere benissimo alle loro esigenze. Loro mi conoscono bene, ho fatto molto, sono ben conosciute e quindi per questo ho dato una grande garanzia per loro. Loro ci credono in me, credono nei nostri valori e credono in quello che vogliamo fare perché noi vogliamo ancora attualizzare il discorso sulla sicurezza perché è il primo punto che noi vogliamo dare ai cittadini. La sicurezza è molto importante per i cittadini perché vogliono stare tranquilli, sereni a casa e noi ne vogliamo dare altre. Azione politica, che è il nostro gruppo politico, noi abbiamo formato un gruppo di persone competenti in grado di fronteggiare questi problemi sul territorio e sono ragazzi tutti con una certa cultura. Possiamo proseguire? Completi il discorso? I ragazzi che abbiamo costituito la lista sono assolutamente professionisti che hanno le loro competenze, le ho scelte appunto perché possano stare e possano condurre il loro settore qualora noi stessimo a governare Città Sant'Angelo. Benissimo, una lista più politica è quella del Movimento 5 Stelle che va proprio con il suo simbolo come del resto avviene negli altri comuni in cui si candida per le amministrative. Stefano Seracini, la presentazione del candidato e anche della squadra che sostiene questa candidatura. Salve a tutti, ormai mi conoscete anche se molti dicono che io sia uno sconosciuto della cittadinanza. Sono Stefano Seracini, laureato in Scienze della Comunicazione, specializzato in pubblicità e comunicazione d'impresa. Fra le mie attività a Città Sant'Angelo sono stato campione regionale assoluto di tiro con l'arco e qualcuno lo ha già scritto su qualche giornale. Non siamo qui e non sono qui per partecipare, sono qui per vincere, ma non per vincere con un gruppo, per vincere e far vincere tutti i cittadini. Finora questo non è mai avvenuto finché non è arrivato il Movimento 5 Stelle, che sia il Governo o che sia qualsiasi altra istituzione. Grazie al Movimento 5 Stelle sono state fatte tante cose e tante ancora ne faremo insieme. Conosciamo perfettamente la realtà di Città Sant'Angelo. Se elencassi tutte le persone che conosco e che mi conoscono e che hanno avuto la fortuna, che ho avuto io la fortuna di incontrare, li elencherei forse tutti e 15.000 gli abitanti di Città Sant'Angelo. Ma non è questo il punto, il punto è un altro. Bisogna scegliere e scegliere, come fa il Movimento 5 Stelle, onestà e trasparenza. Senza queste due parti è inutile parlare di programmi, è inutile parlare di politica, è inutile parlare di qualunque altra cosa. Il Movimento 5 Stelle ha garantito sempre questi due principi, l'onestà e la trasparenza. Non siamo politici di professione, né ci interessa esserlo. Siamo cittadini, tutti. Il nostro programma lo conoscete già benissimo, è molto simile a quello che altri vi hanno elencato o vi presenteranno, perché lo avete scritto voi. Noi abbiamo semplicemente raccolto le vostre istanze e le abbiamo inserite in un programma, sperando di poter realizzare tutti i vostri bisogni. Finora la città di Città Sant'Angelo è stata lasciata all'abbandono. Se guardiamo il centro di Città Sant'Angelo, c'è uno spopolamento assurdo, nonostante si continui a dire che sia uno dei comuni con la migliore qualità della vita, e questo significa che non c'è lavoro. Non c'è lavoro per i giovani, i giovani se ne vanno e la popolazione che aumenta, aumenta in tutte le altre contrade che però sono state lasciate dalla politica all'abbandono. Antonio Merchiorre, lista insieme per Città Sant'Angelo. Lei si candidò a sindaco in qualche tornata fa, se non sbaglio, però la conoscono già bene i suoi concittadini. Ci spieghi anche un po' la sua squadra, la sua lista in qualche modo. Allora, innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. Sono Antonio Merchiorre, candidato per la lista insieme per Città Sant'Angelo, che si vuole proporre per i prossimi cinque anni di legislatura. Molti mi conoscono, però partirei proprio da questo aspetto. Sono nato nell'endoterra di Città Sant'Angelo, poi mi sono trasferito appena, convolato a nozze a Città Sant'Angelo Centro Storico e poi successivamente mi sono stabilizzato nella parte più bassa di Città Sant'Angelo e vivo con la mia famiglia nella vallata del Piomba, dove aiuto a gestire un bed and breakfast che gestisce mio figlio. Nella vita ho fatto il cancelliere della pretura e tribunale e quindi la mia vita è costellata a Sembrec che è un po' di formazione professionale. L'onestà, la trasparenza e la giustizia sono cose che stanno nel mio modo di essere. Poi, facendo l'impiegato pubblico, ho avuto modo di avere tanto tempo a disposizione, perché prima si faceva solo, si è fatto sempre, orario continuato. Quindi io il pomeriggio l'ho cercato sempre di mettere a disposizione della comunità, in tanti modi. L'ho fatto nel campo della scuola, seguendo i figli, sono stato presidente d'istituto per circa otto anni, l'ho fatto nel campo dello sport. Ho cresciuto un'intera generazione di ragazzi che oggi sono quarantenni e che sono stato anche presidente dell'Ancolana per tre anni. Poi successivamente mi sono dato una cosa bellissima. Oltre a quella delle attività parrucchiali, sono stato ideatore e fondatore del Comitato Feste Sant'Agostino di Marina di Città Sant'Angelo dal 1996 in poi fino ad oggi e ancora do il mio contributo. Però ecco, mi sono dedicato negli ultimi sei anni a un'associazione che come ideatore, soprattutto e volontario, la Pro Città Sant'Angelo che ci interessiamo di accoglienza turistica perché abbiamo capito che il futuro di Città Sant'Angelo possa essere veramente questo, il volano futuro economico per Città Sant'Angelo sia proprio il turismo dopo che sono accesi questi riflettori. E quindi da qui parte un nostro programma è un programma che parte dalla conoscenza, che parte dalle capacità e che quindi si vuole proporre per i prossimi cinque anni con una squadra molto rinnovata che si pone nel solco dell'amministrazione uscente, vuole rappresentare il centro-sinistra con tanti giovani, con tante nuove idee che abbiamo scritto nel nostro programma e che porteremo avanti nei prossimi cinque anni. Bene, cinque secondi prima della resta. Siete stati tutti bravi, puntuali. Bene, allora, seconda domanda, praticamente l'avete posta già voi perché insomma facevo riferimento anche io prima. Soprattutto nell'ultimo anno Città Sant'Angelo ha avuto una notorietà, io poi non voglio esprimere i giudizi di merito, rispetto alle statistiche e alle impressioni sulla sua qualità della vita. Qualcuno esaltava ed esalterà probabilmente questo dato, altri come Seracini diceva, insomma c'è anche un po' il rovescio della medaglia. Io vi chiedo questo, se il turismo come credo abbia molto spazio nei vostri programmi, come pensate in qualche modo di incentivarlo, di renderlo fruibile, perché appunto questa immagine poi rimanga consolidata e a questa corrisponda una reale attrattività del territorio quando i turisti arrivano a Città Sant'Angelo. Proprio Serafini è stato sorteggiato come primo a rispondere su questa domanda. Perfetto. Posso? Prego. Innanzitutto Seracini. Seracini. Molti si sbagliano. Seracini. La grafica è giusta. La C fa parte di un'attività in comune e tutti insieme. Però poi sulla scheda non c'è bisogno di scriverlo, perché già basta mettere la croce. Assolutamente, ci piace la precisione e mi approfitto della sua domanda per chiarire immediatamente il punto. Con un'altra semplice domanda che è una riflessione per tutti i cittadini. Voi andreste in una città dove la rete stradale è dissestata, dove ci sono fossi e buche ogni 20 metri. Voi andreste in un posto dove la rete idrica è completamente distrutta e quella fognaria è in una situazione notevolmente peggiore. Voi andreste in una città dove la marina, che dovrebbe essere un fiore all'occhiello, è lasciata completamente all'abbandono. Voi andreste in un posto dove non è possibile fare il bagno perché c'è un fiume completamente inquinato? Bene, noi abbiamo intenzione innanzitutto di ripristinare le cose e riportarle alla normalità. Normalità significa acqua pubblica e acqua pulita. È una delle tante stelle che il Movimento 5 Stelle presenta. Inoltre, abbiamo bisogno di valorizzare tutte le contrade. Qui non si è dimenticato solo Marina di Città Sant'Angelo, che non ha una fermata di un autobus nonostante ha una piazza ed è forse il posto più popolato. Qui ci si è dimenticati di Madonna della Pace, una delle tante contrade che ha una fantastica e piccola chiesa. Qui ci si è dimenticati di posti come Villa Cipressi, Contrada Gallierano, Piano di Sacco, posti dove la politica attualmente in parte e se il Movimento 5 Stelle non vincerà, ci sarà una costruzione di cemento armato e immondizia a cielo aperto. Io mi rivolgo a voi, cittadini. Se vogliamo fare del turismo, prima di tutto dobbiamo valorizzare noi stessi, riprenderci i nostri diritti, ripulire le strade, ridare sicurezza in tutte le zone. Ci sono cittadini che hanno subito otto furti. Voi andreste a fare turismo? Voi andreste in una città dove i furti sono all'ordine del giorno? Io non credo. Voi e noi andremmo in posti come città Sant'Angelo perché sono splendidi, perché hanno delle caratteristiche architettoniche fantastiche, ma prima di tutto questo dobbiamo tornare alla normalità. Abbiamo nel centro case abbandonate e abbiamo bandi europei per poterle rimettere a posto con i soldi che l'Europa ci fornisce. Abbiamo strade senza illuminazione nel 2019. I soldi ci sono e le cose le facciamo insieme. Matteo Perazzetti, siamo città Sant'Angelo. Stessa domanda, ovviamente. Sì, grazie. Non vedrei una situazione così catastrofica della mia città. Anzi, io dico che città Sant'Angelo ha delle potenzialità inespresse enormi proprio perché non siamo mai riusciti casomai a veicolare e a sfruttare quello che può essere un tesoro per città Sant'Angelo, cioè il turismo. Mi ricollega a una delle mie prime mozioni che ho presentato in Consiglio Comunale cinque anni fa, quindi non per voler essere avveniristico però presentai una mozione per creare un'applicazione turistica cioè geolocalizzare il turista in tutto il territorio angolano. Il territorio angolano è vasto è difficile da gestire la rete stradale è enorme quindi è normale che ci possano essere delle situazioni di manto stradale dissestato bisogna riuscire a risolvere urgentemente però ci sono delle difficoltà oggettive nell'amministrare quindi dobbiamo riuscire a prendere coscienza anche di questo e ad intervenire per quanto riguarda il turismo deve divenire oggi la fonte principale di Città Sant'Angelo noi abbiamo una marina che è la parte ricettiva più importante dove ci sono i più grandi alberghi perché è più vicina alla costa con turisti che vengono da fuori che vengono a permanere sul territorio a marina di Città Sant'Angelo abbiamo un centro storico che è un gioiello e che deve essere valorizzato ancora di più deturpato purtroppo in alcune parti da interventi a macchiage che servono soltanto e sono stati utilizzati soltanto in una fase preelettorale purtroppo abbiamo vicoli stupendi in cui è stato fatto il pavimento di cemento soltanto per riuscire ad accontentare alcune persone dobbiamo riuscire a lavorare ad un progetto di decoro urbano per il centro storico smettere di fare un macchiage totale valorizzare quelle che sono le più importanti bellezze del centro storico abbiamo una zona a monte del centro storico tra Città Sant'Angelo ed Elice che è Villa Cipressi con dei paesaggi rurali eccezionali la domenica e il sabato le nostre aziende agricole lavorano i nostri agriturismi sono pieni di persone che vengono a poter permanere sul territorio dobbiamo riuscirla a valorizzare dobbiamo creare un'applicazione turistica perché con il telefonino oggi il turista si muove dobbiamo riuscire a creare una maggiore ricezione dare un aiuto alle aziende che oggi vogliono investire sul territorio a livello ricettivo dobbiamo riuscire a dare ai nostri stessi operatori turistici sul territorio delle alternative noi sul programma abbiamo voluto inserire anche alla riscoperta di piccoli vecchi tratti di strade che sono state oramai dismesse che possono essere un veicolo per quel turismo ciclabile che oggi tanto è importante vogliamo creare a mare una zona camping per rivalorizzare anche quella zona che è via torrecostiera che è stata lasciata per troppo tempo alla merce del degrado Antonio Melchiorre bene sentire parlare di un modo catastrofico di città Sant'Ange sinceramente come cittadino mi dispiace ma non io personalmente non devo rispondere ho detto che ci poniamo nel sorco della continuità io non sono un amministratore uscente lo sono stato però dal 95 fino al 2006 quindi ho acquisito un'esperienza notevole ecco perché c'è il mio slogan di l'esperienza in comune ho avuto modo di seguire la città Sant'Ange in tanti aspetti anche sotto l'aspetto turistico già fin dal 1999 sono stato l'assessore che ho portato che ho fatto pervenire il riconoscimento di città d'arte città Sant'Ange ho lavorato per inserire città Sant'Ange nel circuito di città dell'olio città del vino che ha portato tanto bene alla nostra agricoltura oggi sono tanti agricoltori che producono prodotti di eccellenza che esportano in tutto il mondo e poi sono stato l'assessore che per primo ha portato lo sportello unico l'attività produttiva a città Sant'Ange il SUAP che ha dato tanto possibilità di sviluppo a città Sant'Ange però adesso nel nostro programma vorrei parlare di quello che vorremmo fare soprattutto a livello turistico dicevo prima con l'associazione Pro Città Sant'Ange ho fatto un'esperienza come volontario io solitamente prendo i gruppi che arrivano a Marino di Città Sant'Ange lo salgo sull'autobus li accompagno per portarli a Città Sant'Ange e quindi illustro il paesaggio rimangono già ammirati solo per il paesaggio poi c'è il centro storico centro storico bellissimo però ci sono delle criticità e poi li accompagno anche con percorsi enogastronomici interessanti e degustazioni nelle nostre cantine però ecco noi puntiamo molto sulla città futura per noi la città turistica a Città Sant'Angelo abbiamo un problema che vogliamo affrontare insieme alla città turistica lo spopolamento con diciamo dell'ingendivante soprattutto i proprietari degli immobili che molti sono chiusi sono diversi palazzi gentilizi ma non solo che dobbiamo dare delle possibilità oltre che la possibilità di attingere a fondi europei se ce ne sono e quindi lavoreremo per questo con un grosso marchio però ecco noi vorremmo realizzare vorremmo far realizzare spingere verso l'albergo diffuso a Città Sant'Angelo con un'unica regia e dare delle possibilità di andare incontro agli operatori ai proprietari anche con della scondistica su Limo per la seconda casa sulla Tossa per l'occupazione del suolo pubblico in modo che per fare una città aperta ma una città turistica deve recuperare soprattutto il suo mare noi puntiamo a che il mare di Città Sant'Angelo torni ad essere utilizzabile e soprattutto balneabile che però su questo aspetto poi avrò modo di approfondirlo Certo Arturo D'Addona Città in Comune e azione politica sempre sui temi del turismo Dunque come ho già preannunciato prima io avendo trascorso il mio ventennio nel comando ho avuto modo di conoscere il territorio nelle parti molto minuziose in termini critici che però ci sono anche delle bellezze a Città Sant'Angelo voglio dire e debbo anch'io diciamo accostarmi alle dichiarazioni fatte dai candidati Perazzetti e Melchiorre per il fatto che Città Sant'Angelo non è una città dove c'è grande criticità sicuramente no è una città che conosco molto bene non è così però diciamo che ci sono delle problematiche legate sicuramente alla circolazione all'urbanizzazione che verrà sicuramente guardata nei minimi dettagli e quindi verranno organizzate dei lavori ad hoc noi su questo puntiamo pertanto inizialmente dalla sicurezza dove ci sarà una individuazione di punti nevralgici verranno installate o meglio vanno messe ulteriori telecamere in questi punti che possono guardare gli ingressi di tutti i veicoli e tutte le persone che si inseriscono nel territorio e quindi monitorare questo passaggio per poter dare sicurezza ai cittadini invece per il turismo quindi legandoci al turismo dobbiamo rilanciare soprattutto la marina e il centro storico perché non ci dimentichiamo che Città Sant'Angelo rientra in uno dei borghi più belli d'Italia una città slow siamo stati messi in un segmento molto alto da parte della rivista Forbes dove ci inserisce in uno dei primi paesi al mondo vivibili e quindi dobbiamo dare atto di questo per cui siamo un paese che veramente ci crediamo e noi partendo dalla marina che è un posto dove è stato in passato messo un po' in disparte abbiamo un'area della marina dove potremo dobbiamo fare un museo un museo per faremo insomma metteremo a disposizione della gente una urbanizzazione che possa favorire tutti i cittadini dalla marina al centro storico per poter sfruttare quell'area che è stata sempre messa in abbandono e poi chiaramente attraverso le strutture ricettive noi faremo in modo di far venire persone anche da fuori invitarle a venire da noi per poter far vedere le bellezze che abbiamo a Città Sant'Angelo che ci sono molte strutture che sono chiuse che devono essere rivalutate devono essere riaperte per farle vedere a chi viene sul posto e quindi creeremo dei collegamenti tra le strutture ricettive alberghiere ristoranti e attraverso anche dei mezzi di comunicazione che guarderemo poi spiegheremo più in là che le faremo attraverso la non saranno non può proseguire ci saranno dei mezzi di comunicazione che verranno utilizzati attraverso per collegare insomma tutti i posti da visitare la parte sia di Città Sant'Angelo ma anche le bellezze che sono fuori come la zona di Villa Cipressi e le aree che abbiamo un paesaggio veramente bellissimo di Città Sant'Angelo da vedere bene noi ci fermiamo per la prima delle nostre pause tra poco torneremo in studio dopo la pubblicità e approfondiremo alcuni dei temi che sono già stati lambiti dai candidati nei loro primi interventi a tra poco bene siamo tornati in studio con i candidati sindaci di Città Sant'Angelo vi piace approfondire un tema di cui si parla ormai da tanti anni in relazione a Città Sant'Angelo e anche al suo ruolo di snodo di congiunzione all'interno della viabilità tra le province di Pescara e di Teramo e anche con l'entroterra ci sono due questioni che sono in piedi e voi lo sapete più di me appunto da tanto tempo e sono quelli dell'arretramento del casello autostradale dell'A14 e anche della situazione della viabilità a ridosso del fiume Saline ci sono dei ponti che sono stati ultimati un altro più importante probabilmente quello più importante di tutti su cui è aperta ancora una discussione circa i mezzi che dovranno attraversarlo tra Montesilvano e appunto Città Sant'Angelo è anche una situazione legata agli espropri possibili questioni che voi conoscete meglio di me allora spiegateci che volto potrà avere tra cinque anni la viabilità in una città che rappresenta un vero e proprio snodo nell'area metropolitana in particolare ovviamente parlo di Città Sant'Angelo Marina Melchiorre nel mio programma e nel programma di insieme per Città Sant'Angelo puntualizza molto lavora molto indica molto sul discorso futuro dei trasporti a Città Sant'Angelo sulla mobilità complessiva pensiamo che l'autostrada il casello autostradale comunque più che da arretrare è così da creare un nuovo punto di snodo però penso che quello che c'è attualmente comunque rimarrà dovrà rimanere perché penso che sia molto importante perché proprio a ridosso della parte bassa di Marina però ecco condiamo molto la mobilità è migliorata molto con i tre ponti realizzati dalla diciamo dall'ente provincia naturalmente con la collaborazione di comuni interessati di Montesilvano e Città Sant'Angelo che ha già portato di grossi benefici con l'apertura dei primi due ponti adesso ci sta il terzo ponte da inaugurare fra non molto intanto è pronto anche il ponte sul Piomba l'amministrazione uscente ha già finanziato la realizzazione dell'asse che congiunge appunto questi due ponti lungo il quale decorrerà non solo il tracciato carrabile ma sarà anche la possibilità di utilizzarlo come area diciamo con una corsia preferenziale per i pedoni e per i ciclisti noi contiamo molto su quest'opera che finalmente apre un po' quella zona quella zona a mare è una zona chiusa anzi nei tempi passati era difficile anche accedervi dal sottopasso perché con un po' di pioggia si allagava ora con l'apertura di questo importante snodo pensiamo che ci possa essere veramente un futuro florido per Marino di città Sant'Anna ci sono delle criticità forse legate anche allo strumento urbanistico che abbiamo in mente di completarlo entro un anno dall'insediamento però penso che la viabilità è un fatto molto molto importante come pure in quella zona recuperare il mare perché è una cosa importante per una città turistica e poi abbiamo scritto già che ci vogliamo collocare nella mobilità metropolitana ci sono due proposte una è quella della metropolitana leggera sull'asse ferroviario che andrà da Vasto fino a Giulianova e oltre fino a San Benedetto noi pensiamo che a Marino di città Sant'Anna ci possa essere un snodo ferroviario una possibilità di intercettare questo flusso ma penso che la strada parco di cui se ne parla tanto dell'area metropolitana di Vescara possa benissimo arrivare fino a Silvi andare a servire anche il nostro territorio e quindi collocarci complessivamente in un'area metropolitana che deve sempre crescere e che avrà la funzione proprio di mettere più in contatto le zone della parte bassa di Città Sant'Angelo Stefano Seracini sicuramente è importante un lavoro di ristrutturazione dell'uscita autostradale ma quanto è importante ristrutturare la strada che dal paese porta a Villa Cipressi sette chilometri che non si possono percorrere in meno di venti minuti quanto è importante mantenere le strade pulite fare lavori pubblici precisi e che durino nel tempo sembra che le strade a Città Sant'Angelo come in molti altri comuni sono fatte per essere rifatte i cittadini sono stufi di questo vogliono una rete stradale precisa e fatta bene e si può fare quello che manca è la volontà abbiamo problemi di traffico pazzeschi proprio l'altro ieri parlavo con un lavoratore di Città Sant'Angelo quando scende da uno dei centri commerciali si trova davanti una rotonda che sbuca su tre corsie una rotonda più o meno grande come una ruota di un'auto sono lavori pensabili cominciamo ad eliminare le storture che finora sono state fatte idee che sono partite dalla politica che fa finta di essere tra maggioranza e opposizione e poi come vedete anche per il turismo è completamente d'accordo in ogni tema quattro giorni fa mi sono incontrato con un cittadino che abita in via San Martino è stato fatto un senso unico per ogni strada in una strada che è diventata pericolosissima e i frutti di questi lavori a breve li vedrete non sono state aperte delle comunicazioni nella zona di via ciclamini per arrivare al paese nonostante ci sia una strada completamente fatta c'è una rete metallica chiusa che blocca questa strada la viabilità la dobbiamo riportare alla normalità come tutto il resto ma questo noi cittadini lo conosciamo benissimo conosciamo quanto traffico c'è per tornare a Città Sant'Angelo quanto sia il traffico di punta della zona di marina di Città Sant'Angelo delle rotonde che ci sono vicino l'autostrada e di tutto il sistema viario che va pensato con un piano traffico e il piano traffico va elaborato insieme a un piano edilizio il Movimento 5 Stelle farà tutto questo grazie a voi cittadini Arturo Dandona Città in Comune azione politica dunque il discorso della viabilità è un punto che noi abbiamo considerato molto soprattutto sull'area della marina innanzitutto perché è un'area che sta ridosso anche all'uscita del casello autostradale c'è l'area commerciale a ridosso pertanto soprattutto nei punti nei momenti diciamo in orari in alcuni orari si concentra un po' molto traffico e lì abbiamo pensato di fare una di realizzare una rotonda o comunque regolare l'uscita del casello autostradale con anche con l'ingresso di via Salara di Città Sant'Angelo di Marina di Città Sant'Angelo cosicché possa essere distribuita meglio la circolazione stradale anche sul fatto dell'inquinamento oltremoto quindi comunque per quanto attiene la circolazione stradale non abbiamo una forte criticità in generale perché noi dobbiamo pensare che sono stati realizzati tre ponti che ci hanno dato la possibilità di snellire il traffico in vari punti della città dove da quei punti da quei lati si possono raggiungere le varie località sia della città a nord che a sud cioè parlo verso Silvi e verso Pescara e Montesilvano abbiamo più punti per poter snellire il traffico da quella parte ci siamo più o meno riusciti in altri punti più critici si farà un progetto che darà la possibilità di snellire il traffico appunto proprio sull'area dell'ingresso autostradale che è l'unicare che ha le proprie criticità in effetti non guardiamo poi al terzo ponte che adesso è in fase di realizzazione che rientra con la vecchia Giunta Chiodi dove è stato fatto un progetto un progetto anche sul bike to cost che ci dà la possibilità di dare una congiunzione tra la città di Montesilvano a quella di Città Sant'Angelo un collegamento sicuramente eccezionale dove ci sarà una zona che porterà a un contatto del cittadino sull'area della marina soprattutto anche perché utilizzeremo per la bici per esempio è una forma di traffico che consente anche con le bici consente anche di eliminare l'inquinamento e quindi può essere un momento di svago e comunque su quell'area poi ci sarà diciamo il traffico verrà quindi liberato da una serie di problemi che comunque risolveremo appunto con delle progettazioni che prenderemo dai fondi europei Benissimo allora Matteo Berazzetti lista Siamo Città Sant'Angelo pone le basi del nostro progetto per marina di Città Sant'Angelo proprio quello di realizzare lo abbiamo definito la riviera di Città Sant'Angelo cioè quella bretella che collegherà il ponte sul Saline con il ponte sul Piomba una modalità per poter riuscire a valorizzare e a rivalutare quella zona che è stata lasciata per troppo tempo al degrado pongo immediatamente il diciamo un giudizio sul fatto del casello successivamente all'apertura dei tre ponti dei due ponti sul Saline il traffico si è leggermente snellito e quindi non c'è tutta questa emergenza che c'era prima quindi questa è stata un'opera importante portata avanti dalle varie amministrazioni provinciali che hanno sortito il loro beneficio alla popolazione di marina di Città Sant'Angelo altra cosa importante è quello di uno studio per un piano traffico per marina di Città Sant'Angelo cioè rivedere quello che possono essere quello che può essere tutto il piano traffico perché lo dobbiamo riuscire ad aggiornare se si aprono nuove strade bisogna vedere se si può riuscire ad ottimizzare il traffico e la veicolarità degli utenti su tutto il territorio angolano un altro nostro progetto è proprio quello di creare uno snodo per il trasporto di massa e il trasporto pubblico è impensabile ancora fare tratte di autobus che partono da Città Sant'Angelo per poi arrivare a Pescara in 50 minuti si potrebbero riuscire a potenziare i tratti di trasporto di massa sull'intero territorio non lasciando intere contrade vuote intere contrade non servite e creare uno snodo proprio a marina di Città Sant'Angelo proprio di cambio di autobus in maniera tale da riuscire poi a snellire tutto quello che è il traffico anche sulle altre varie città i ponti sul Saline i due ponti a mare sono due ponti importanti si diceva se essere carrabili o ciclabili lasciare piste ciclabili o ciclopedonali bene sono stati costruiti anche carrabili credo che ci sia una indicazione a questo punto di poterle utilizzare nella stessa maniera in questa maniera proprio per riuscire ad ulteriormente snellire quello che è la mole di traffico su Marina di Città Sant'Angelo quindi lavorare tramite uno studio costante aggiornato sul traffico di Marina di Città Sant'Angelo aggiornare il trasporto di massa su tutto l'intero territorio di Città Sant'Angelo lavorare affinché si possa riuscire a creare quella bretella così importante per Marina di Città Sant'Angelo che produrrebbe 1. riduzione del traffico nelle zone interne quindi sulla nazionale 2. una rivalutazione di una zona che è del tutto stata lasciata all'abbandono bene altra domanda questa è un po' più diciamo due domande in una in qualche modo che ci fa raccogliere un po' anche l'andamento di questa campagna elettorale a Città Sant'Angelo allora in questi giorni avete discusso di vari temi secondo voi qual è la portata della scelta per il prossimo 26 di maggio qual è l'opportunità più grande che voi offrite alla città e qual è il rischio più grave che questa stessa città corre nel caso non vinciate le elezioni iniziamo con Arturo D'Addona dunque noi vogliamo rilanciare soprattutto il discorso sulle imprese sulle piccole e medie imprese affinché ci possa essere un rilancio sul territorio che questo costituirà poi un rilancio appunto anche sul lavoro dei giovani e le imprese noi abbiamo molte imprese all'interno del territorio che hanno avuto un calo assolutamente molto 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 che è andata sul precipitoso abbiamo per esempio l'area dell'Ibisco dove noi puntiamo su un rilancio e dove si farà un polo abbiamo proposto un polo organizzativo per poter rilanciare appunto coloro che ci sono all'interno ma anche far venire imprese dall'esterno per poter rilanciare quell'area perché è un'area che è stata lasciata in stato di abbandono di degrado dopo diciamo la perdita della gestione vecchia che è andata in che si è defilata noi abbiamo avuto modo di incontrare i i i rappresentanti all'interno i quali ci hanno francamente proposto molti problemi su questo su questa su quel su quel punto di commerciale perché quello era un fiore all'occhiello di città Sant'Angelo loro hanno avuto dei problemi di gestione perché ci sono state purtroppo delle incomprensioni anche con la gestione comunale che ne ha preso che ha preso in mano dopo il fallimento della della impresa esterna e quindi noi abbiamo ci siamo messi a disposizione per proporre un domani il rilancio di questo centro commerciale per le altre imprese faremo prenderemo faremo delle proposte vedremo di prendere dei fondi chiaramente sempre dai fondi europei che abbiamo già individuato per poter rilanciare l'economia e quant'altro credo che il territorio ha molte aree artigianali industriali che possono essere sicuramente rilanciate e ingrandite perché città Sant'Angelo ha le risorse ha il territorio che permette di poter dare un'impronta maggiore sull'economia perché se rilanciamo l'economia rilanceremo anche posti di lavoro perché in questo momento particolare dell'economia abbiamo l'esigenza di inserire all'interno di queste aziende che proporremo aprire un mondo di lavoro ai giovani che oggi hanno difficoltà di lavorare bene Antonio Melchiorre qual è il rischio più grave che corre città Sant'Angelo e qual è l'opportunità più grande che voi volete far cogliere alla città io vedo innanzitutto opportunità il rischio dipende naturalmente da chi si mette in mano la città se c'è l'esperienza e noi il mio motto è proprio voglio portarle la mia esperienza in comune insieme con altri con il vice sindaco uscente ma anche con altri componenti in una squadra rinnovata e quindi non sbagliando le politiche sicuramente non sottocorremo città Sant'Angelo metteremo a rischio la nostra città che è bellissima che va salvaguardata che va potenziata con le mille criticità che ci sono ma noi lavoreremo per questo per superarle io penso che la parte importante sia dedicata come sempre al lavoro alla produttività del nostro territorio città Sant'Angelo ha delle per scelte fatte sempre nell'ambito del centro-sinistra ha un'area artigianale quella di Sant'Agnese che con le problematiche che ci sono state in tutto l'Occidente di periodi di crisi però ecco si sta decollando e c'è attualmente l'usottica ex Barberini che si è insediata che sicuramente porterà ancora tanti benefici ai posti di lavoro ma dicevo città Sant'Angelo è stata guardata sempre dai comuni di Mitrofi come anche un bacino dove un luogo dove poter cercare lavoro e noi ci dobbiamo sforzare sempre per questo si parlava del centro-ibisco il centro-ibisco ha delle difficoltà attuali legate alla vecchia gestione che mi sembra in amministrazione controllata e quindi noi però come coalizione abbiamo già detto che lì c'è da recuperare innanzitutto un centro direzionale che è comunale che è ritornato in mano al comune e che noi pensiamo di gestirlo di utilizzarlo soprattutto per allocarvi poi si vedrà la strada possibile come realizzarla pensiamo di allocarci per esempio una nuova società di raccolta di rifiuti l'ambiente spa che è nata dalla fusione dei tre di Linda ambiente spa e attiva perché possa essere un centro direzionale forte con un centro direzionale forte con una società forte con tanti dipendenti può essere il volano per far ripartire quell'ambito e anche perché sarebbe una società che aiuterebbe come città sicuramente a tenerla in ordine pulita eccetera quindi si deve lavorare molto sotto l'aspetto dell'opportunità di lavoro e noi siamo deputati proprio per questo il nostro programma è concentrato soprattutto allo sviluppo armonico di tutta la città perché quando parliamo di turismo io il turismo lo vedo in tutto il territorio non solo città Sant'Angelo centro storico oppure marina ma anche nel nostro mondo agricolo che è fascinante che è bello dove si possono realizzare veramente tanti percorsi enogastronomici e portare lavoro anche in campagna Matteo Perazzetti rischi e opportunità di questa campagna elettorale beh le opportunità che noi daremo a città Sant'Angelo saranno quelle di avere un'amministrazione partner dei cittadini partner delle imprese partner delle associazioni noi saremo al fianco di tutti questi operatori che lavorano per far rendere meglio la società angolana più veloce più snella noi vogliamo rendere essere partner delle imprese snellendo quei tempi burocratici che ogni giorno le imprese debbono affrontare perché purtroppo si ha un comune ad oggi che è sottodimensionato impersonale quindi si fa difficoltà a dare risposte urgenti noi saremo al fianco delle associazioni che operano per il sociale che operano sul territorio angolano gli vogliamo dare ad esempio nel nostro programma una casa delle associazioni una struttura che le possa accogliere tutte quante non saremo mai ostili a chi oggi opera sul territorio angolano noi saremo partner di chi oggi opera sul turismo di chi oggi opera sull'agroalimentare perché il turismo e l'agroalimentare possono essere oggi per Città Sant'Angelo una opportunità saremo partner di chi oggi vuole investire sul territorio angolano è sì vero che Sant'Agnese è una zona artigianale ma è sprovvista del tutto di qualsiasi utenza e quindi sono gli stessi operatori che debbano riuscire a intervenire noi vogliamo essere partner di tutti quei cittadini che ogni giorno ci lamentano delle problematiche di abbandono del proprio territorio ho incontrato ho avuto modo e piacere di incontrare anche gli stessi operatori che svolgono la loro funzione all'interno del centro commerciale Il Bisco e la prima cosa che è stata detta il comune ci ha del tutto abbandonati il comune ci ha lasciati del tutto l'abbandono abbiamo una struttura che è del tutto degradata e questo non permette gli investimenti nuovi investimenti e valorizzazione degli stessi capannoni che sono presenti lì quindi una maggiore presenza del comune verso i cittadini verso le imprese verso le associazioni noi in questi anni ci siamo confrontati e siamo andati ad affrontare lì dove era necessario le problematiche che i cittadini ci sottoponevano bene questo avrete un comune con noi avrete un comune sempre presente un comune che sarà al vostro fianco le opportunità che non si coglieranno se non ci doveste votare beh certamente ritrovarsi per l'ennesima volta su un programma elettorale il porto turistico o la casomai la piscina comunale che ha tanto per tanti anni avergato i programmi di tantissime forze politiche ma che noi non vogliamo scrivere ecco perché abbiamo siamo voluti essere molto più pragmatici perché sappiamo le condizioni economiche in cui versa il nostro comune e non abbiamo voluto fare promesse vane certamente l'impegno noi sappiamo di andarlo a prendere sappiamo di prenderci un onere e soprattutto un onore però lo vogliamo affrontare con il pragmatismo che abbiamo che c'è sempre contraddistinto in questi cinque anni Stefano Terracini appunto rischi e opportunità anche dal suo punto di vista per l'esito di questa campagna elettorale quale è l'opportunità che voi offrite ai cittadini di Città Sant'Angelo quali sono i rischi che corrono in caso di esito elettorale diverso partiamo dai rischi partiamo dal tentativo di creare discariche inceneritori e abbiamo sempre sentito parlare e la minaccia incombe perché la politica ha bisogno di questo i cittadini no i cittadini non hanno affatto bisogno né di inceneritori né di discari il rischio è alto noi non saremo al vostro fianco entrerete voi nelle istituzioni entrerete voi nel comune noi abbiamo creato un programma dinamico perché nella natura delle cose cambiare ed ognuno di voi e ognuno di noi che vive una parte del quartiere sa benissimo che a Città Sant'Angelo le realtà cambiano da quartiere a quartiere da contrada a contrada un esempio banale difficile trovare la neve a Marina di Città Sant'Angelo quante volte vi siete trovati bloccati con le strade ghiacciate in paese o a Villa Cipressi è fondamentale per ognuno di noi che siano i cittadini a governare non delle classi politiche gli interessi delle classi politiche li conosciamo tutti noi siamo al guinzaglio solo dei cittadini per questo scegliamo di fare entrare loro all'interno delle istituzioni beni pubblici inalienabili è stata venduta una farmacia la farmacia comunale qualcuno a Madonna della Pace se lo ricorda molto bene e non solo a Madonna della Pace una farmacia che è sempre stata inattivo i bilanci sono trasparenti e potete andarli a vedere ovunque digitate bilancio farmacia comunale di città Sant'Angelo su internet ci sono i bilanci anno per anno ci sono attività partecipate che sono state vendute ed erano inattivo io lo capisco benissimo e c'è una legge che dice se un'attività partecipata è in passivo va venduta se l'attività invece è inattivo perché viene venduta a chi viene venduta chi ci guadagna se non vincerà il Movimento 5 Stelle ci perderanno tutti i cittadini e vincerà la classe politica vi invito ad andare a votare tutti anche coloro che sono particolarmente delusi e schifati della situazione politica in ogni dove è nostra responsabilità cambiare bene noi ci fermiamo per qualche istante tra poco dopo l'ultima pausa pubblicitaria il rush finale con il confronto tra i quattro candidati sindaci di Città Sant'Angelo linea alla regia siamo arrivati al rush finale di questa tribuna elettorale tra i candidati sindaci di Città Sant'Angelo riprendiamo il giro da Matteo Perazzetti lo accennava credo proprio alla fine in un passaggio conclusivo del suo precedente intervento si è discusso nel corso di questa campagna elettorale anche della situazione finanziaria del comune di Città Sant'Angelo come la questione conti la questione tasse e quali sono soprattutto le vostre proposte in merito Perazzetti il bilancio comunale di Città Sant'Angelo ha visto purtroppo una grandissima sofferenza che purtroppo è stata portata alla luce da una metodica che è stata introdotta in una delle ultime manovre cioè quando si è dovuto passare dal bilancio di competenza al bilancio di cassa cioè quando si è realmente dovuti vedere quelli che erano i soldi effettivamente nelle casse di Città Sant'Angelo scelte spesso e volentieri che hanno portato a emorragie economiche a Città Sant'Angelo scelte politiche fatte con diverse consulenze date in maniera non del tutto lineare e che hanno portato poi successivamente a queste situazioni a questa sofferenza oggi sull'altare del risanamento sono stati sacrificati e lo diceva prima il collega Seracini sono stati sacrificati purtroppo dei beni importanti è stata impoverita Città Sant'Angelo è stata impoverita di servizi è stata impoverita di proprietà negli ultimi anni è stata venduta una farmacia comunale che ben diceva essere inattivo è stata chiusa è venduta una ludoteca un servizio importante per le famiglie di Città Sant'Angelo è stato soppresso il servizio della biblioteca comunale per i ragazzi del centro storico riattivata successivamente con un servizio di un'associazione è stato venduta un'area verde all'interno di un comparto altamente urbanizzato che è quello dell'ex area G8 tutti i sacrifici che sono serviti a porre rimedio ad un bilancio che era quasi del tutto compromesso oggi abbiamo uffici che sia per personale sia per economicità sono chiusi o chiusi o ridotti in orario parliamo della biblioteca comunale parliamo dell'ufficio anagrafe sono stati soppressi e poi riattivati in parte anche le delegazioni che sono tanto utili a Marina di Città Sant'Angelo è un comune in forte sofferenza lo abbiamo denunciato sin da subito lo abbiamo voluto portare allo scoperto si dice qualche uno dice che invece i bilanci sono a posto beh se sono a posto dopo tutti questi sacrifici vuol dire che prima la crisi era realmente importante che cosa faremo noi? beh noi quando entreremo vogliamo vedere bene tutti quelli che sono i conti di Città Sant'Angelo vogliamo ben vedere tutto quello che è il bilancio di Città Sant'Angelo perché dobbiamo prenderne coscienza più volte siamo stati richiamati anche dalla Corte dei Conti nell'esame che annualmente svolgevano sul nostro bilancio su quelle che erano le anticipazioni di cassa cioè quel voler andare a prendere anticipazioni di cassa dell'anno successivo una metodica che evidenzia la sofferenza del bilancio comunale quindi è una cosa seria è una cosa che noi dobbiamo riuscire a prenderne coscienza una volta che siamo entrati Arturo D'Addona beh dunque bisogna dire in effetti che probabilmente c'è stata una cattiva gestione da parte dell'amministrazione comunale uscente questo bisogna darne atto perché gli atti parlano chiaro il bilancio è disastroso a quel punto riterrei che probabilmente sì è vero che ci sono state delle vendite di immobili probabilmente come il papà che in casa non riesce più a gestire il proprio rendiconto si è trovato costretto forse a cedere qualcosa non è un bene chiaramente non è bene chiaramente cedere o vendere beni del comune perché laddove c'è una risorsa si sarebbe potuto evitare ma probabilmente che si sono trovate nelle condizioni dove lo fare questo però non giustifica il fatto che ci sia stata una cattiva gestione sul bilancio economico quindi diciamo che il bilancio parla chiaro e vediamo che ci sono delle entrate non riscosse da parte dei cittadini che erano insolventi e quindi anche lì forse probabilmente ci sarebbe dovuto essere un avvio di procedimenti nei confronti di quelle persone sia per il recupero appunto di queste somme chiaramente fatte con le dovute maniere per il rilancio chiaramente si può parlare partiamo sempre dal discorso dei finanziamenti europei perché da lì possiamo noi attraverso l'insediamento appunto delle attività produttive noi potremmo chiaramente risanare questo bilancio questo sgrave questo grave bilancio comunale perché se noi mettiamo all'interno imprese lavoro realizzazione di strutture che possano portare all'interno anche chiaramente ci saranno degli ingressi economici per il comune si andrà così a mano a mano con il tempo a bilanciare questi conti che sono abbastanza pesanti appunto questo ci consentirà poi nel rilancio delle imprese ci sarà più occupazione nel territorio ci sarà più circolo di moneta e quindi le casse del comune potrebbero acquisire le somme per poter risanare questo disavanzo economico bene Stefano Serracini Movimento 5 Stelle bilancio del comune sentite questo silenzio ogni centesimo di debito per un comune dovrebbe essere il silenzio che c'è dentro ogni cittadino la situazione del comune versa in uno stato del quale nessun aggettivo può descrivere per come è messo se vendiamo attività che sono inattivo e poi ci lamentiamo che i bilanci vanno in passivo vuol dire che c'è qualcosa che non va e che cosa non va lo sappiamo benissimo qualche giorno fa è venuto a parlarci Pier Nicola Pedicini per qualcuno è un illustre conosciuto sconosciuto ma in realtà lui è un parlamentare europeo e ci ha informato che nessun comune d'Abruzzo città Sant'Angelo compreso non ha mai fatto domanda per prendere fondi europei noi siamo cittadini loro sono un'amministrazione politica forse i cittadini ne sanno molto di più e ne sanno anche molto meglio prendere soldi dai fondi europei per fare del bene alla città è semplicemente una questione di volontà bilancio trasparente e partecipato ogni cittadino deve poter decidere cosa comprare e come comprarlo non qualcuno delegato a fare un interesse che non si sa mai se sia il proprio o quello della collettività scegliamo insieme noi con voi noi siamo cittadini insieme a tutti voi di città Sant'Angelo fare un bilancio partecipato è stato possibile a Parma che è un capoluogo di provincia che ha molti più cittadini di città Sant'Angelo la stessa cosa è stata fatta da Nogarin a Livorno un altro capoluogo di provincia italiano credete che non sia possibile fare una cosa del genere a città Sant'Angelo o credete che sia cattiva volontà pensateci bene la scelta quando andrete a mettere quel segno su un simbolo sarà la responsabilità che ci sarà su ogni cuore e ogni testa dei cittadini di città Sant'Angelo grazie Antonio Melchiorre insieme per città Sant'Angelo anche qui sulla situazione finanziaria del comune e anche sulla situazione impositiva ascoltando i colleghi che hanno parlato prima di me e soprattutto Seracini che ha appena concluso mi domandavo che forse il bilancio comunale non l'hanno letto attentamente allora innanzitutto per chiarezza negli elettori città Sant'Angelo non ha un euro di debito città Sant'Angelo ha avuto solo la difficoltà che si è verificata in tanti paesi d'Italia cioè in momenti di crisi non tutti hanno potuto pagare ciò che dovevano come tasse comunali oppure perché sono state le aziende che sono andate in sofferenza si è accumulata una somma di circa 8 milioni non riscossi che tra l'altro se andiamo a leggere il bilancio noi troviamo il bilancio non ci sono debiti ma c'è un bilancio attivo appunto di 8 milioni perché sono somme che non sono liquide subito disponibili ma diciamo che il Comune di Città Sant'Angelo nel frattempo si è attrezzato molto per recuperare anche gran parte di queste somme che potranno essere utilizzate nel futuro quando si dice per esempio che non sono stati utilizzati fondi nazionali fondi europei eccetera ma io penso che i tre ponti sono stati realizzati con i fondi POM se non sbaglio che sicuramente non erano fondi del Comune di Città Sant'Angelo o della provincia ma erano fondi sovraccomunali e quindi però ecco su questo aspetto penso che che laureremo soprattutto per agganciarci soprattutto anche all'Europa sotto questo aspetto perché l'agenda futura prevede appunto che ci sia la possibilità proprio per i comuni e di sotto i 50.000 abitanti cosa che prima non era possibile di di attivarsi per avere i finanziamenti diretti ma Città Sant'Angelo non è stata ferma per acquisire dei fondi soprattutto in edilizia scolastica perché parlano di catastrofe eccetera andiamo a vedere le scuole di Città Sant'Angelo cari elettori le scuole di Città Sant'Angelo sono all'avanguardia non solo della provincia ma all'avanguardia rispetto a tutto l'Abruzzo sono scuole sicure sono state realizzate perfino dei plessi nuovi e oggi i nostri figli i nostri ipoti vanno sicuramente in luoghi sicuri quindi si è fatto un grosso investimento per stare dietro in momenti di crisi a queste necessità a queste questioni primarie forse è che si è trascurata un po' la possibilità di intervenire sul territorio come si doveva però penso che chi amministra deve stare sempre dietro alle priorità una volta che queste opere grandi opere sono state realizzate io penso che nel futuro sia soprattutto di seguire l'ordinaria amministrazione l'ordinaria manutenzione del territorio e noi lavoreremo molto su questo perché penso che il cittadino al momento che esce fuori di casa si trova la strada messa bene la città pulita la possibilità di percorsi per collegare soprattutto percorsi vita che collegano i vari territori i vari contrade sia una cosa molto molto positiva allora siamo in chiusura di questa campagna elettorale televisiva di questo confronto tra i quattro candidati l'ultima domanda è solitamente quella dell'appello diretto agli elettori ma insomma vi siete appellati già molto alla richiesta del consenso da parte degli elettori invece faccio una domanda un po' più pepata in cui spero che ci sia un po' di qualche scintilla finale insomma in questo dibattito lei lo chiedo a ciascuno di voi se dovesse in qualche modo scegliere il suo avversario più diretto secondo lei con chi sarà la vera competizione di questa campagna elettorale la prima domanda il primo a rispondere è Stefano Seraccini del Movimento 5 Stelle tra gli altri tre la competizione la competizione viene fatta tra i sindaci che sono professionisti della politica noi siamo cittadini quindi fondamentalmente non abbiamo alcun tipo di competizione noi confidiamo sulla volontà di ogni singolo cittadino non abbiamo nemici né avversari semplicemente abbiamo scelto di essere cittadini e non di essere dei politici di mestiere leggete bene ogni lista prima di andare a votare il Movimento 5 Stelle si propone con il proprio simbolo nazionale di fianco abbiamo tre liste civiche che rispondono a politiche diverse presentate da attività politiche nazionali mascherate da liste civiche questo non lo dico io questo me lo avete detto voi cittadini di città Sant'Angelo che li conoscete personalmente che avete visto come si sono comportati e che cosa hanno fatto quindi non credo proprio che ci sia competizione grazie grazie allora Perazzetti chi è il suo vero competitor in questa campagna tra i tre che sono seduti in questo studio ringrazio e voglio qui utilizzare quella che è stata la sua parola competitor perché proprio chi all'apertura proprio di chi aveva svolto la propria festa di apertura al teatro comunale di Città Sant'Angelo aveva usato invece il termine nemici no io non ho nemici questo lo voglio dire assolutamente ma credo che chi governa da 30 anni questa città non me ne voglia l'amico da dona certamente ma credo che l'opposizione che noi abbiamo portato avanti in questi 5 anni che ha fatto venire a galla tutte le problematiche reali che Città Sant'Angelo ha beh io credo che quello sia il PD una piccola una piccola precisazione proprio per rendere più pepato il discorso e per far capire che quando si parla di bilancio bisogna essere estremamente attenti il Comune di Città Sant'Angelo ha 8 milioni di euro di attivo nel bilancio di competenza cioè nei residui che noi dovremmo riuscire a riscuotere questo significa che nel bilancio di cassa invece noi abbiamo poche migliaia di euro di attivo ed è proprio lì il cortocircuito del bilancio di Città Sant'Angelo ed è quello che gli amministratori che fino ad oggi vi hanno governato non hanno ancora capito ecco perché bisogna dire le cose reali credo che il competitor principale per noi sarà il PD abbiamo messo su una lista di ampie vedute abbiamo messo su una lista competitiva ribadisco essere gli unici 16 candidati angolani solo di Città Sant'Angelo che vivono e lavorano a Città Sant'Angelo quindi credo che il competitor maggiore sia sia proprio l'amico Melchiorre allora Melchiorre tocca a lei Melchiorre secondo lei chi è che ne darà filo da torcere in questa campagna elettorale tra gli altri tre candidati beh come diceva Matteo siamo competitor quindi ci confrontiamo in questa fase però io guardo già al futuro futuro di futuro sindaco di Città Sant'Angelo di amministratore dove penso che sia importante recuperare un dialogo tra le parti politiche della città io nell'ultima legislatura sinceramente da cittadino perché ogni tanto andavo a ascoltare perché ripeto non sono un amministratore uscente ho avuto modo di amministrare e quindi non mi ci ritrovavo nel sentire del Consiglio Comunale perché noi eravamo abituati ai vecchi tempi soprattutto con il sindaco Catena che ordinavamo la cena prima di fare il Consiglio tutti insieme quindi si andava per fare corpo perché penso che la politica di un paese di un paese che anche se è 15.000 abitanti ma è un paese comunque piccolo tutti debbano concorrere al bene comune della nostra città e quindi sono quando sarò sindaco dal 27 cercherò e che il dialogo con gli altri con i miei competitor soprattutto con le loro idee perché se ci sono idee buone da poterle utilizzare sono pronto come si dice a confrontarmi e a portarle e a realizzarle prego no no ancora più di un minuto detto questo io penso che ci troviamo innanzitutto un bilancio approvato l'amministrazione Florindi poteva anche invischiarsene in questo momento di preparare il bilancio indando che il bilancio è approvato sì forse ci sono problematiche di poca disponibilità però è che lavoreremo per superare questa fase e quindi andare verso il futuro con più con più ottimismo in modo che possiamo rilanciare tante cose sul territorio e quindi sono fiducioso che in questa fase i cittadini capiranno che noi siamo ecco una lista che vogliamo guardare al futuro con una certa linearità politica innanzitutto siamo del centro sinistra io sono stato segretario del partito democratico fino a non molto tempo fa e quindi ho avuto modo di seguire i sacrifici pur che ci sono stati però ecco con la mia esperienza penso di portare in comune la mia esperienza naturalmente con tante nuove idee che provengono non solo da me ma soprattutto anche dai tanti amici che compono la lista che per la maggioranza sono giovani preparati che hanno tutto con loro entusiasmo daranno il massimo per fare sempre più bella e più interessante la nostra città grazie votate soprattutto la nostra lista insieme per Città Sant'Angelo grazie Melchiorre ultimo intervento quello di Arturo Dandona vediamo se si sbottona di più su chi sarà il suo principale competitor in questi ultimi giorni di campagna elettorale noi siamo una nuova lista civica di azione politica città in comune siamo debbo definirmi il vero centrodestra perché appunto siamo delle nuove una nuova linea formata da personaggi da persone competenti da persone che hanno la loro professionalità competenza nei settori li ho scelti apposta per poter essere capaci di governare l'amministrazione di Città Sant'Angelo noi andremo a vedere nel dettaglio poi se effettivamente i conti sono quelli che dice il candidato Melchiorre devo dire che sul bilancio devo dissentire invece abbiamo altri numeri noi con i nostri ragazzi cercheremo di stare vicino al cittadino noi abbiamo dimostrato personalmente dimostrato di stare molto vicino al cittadino e di essere alle loro dietro le loro richieste non abbiamo io non ritengo di avere un competitor personale perché questo competitor lo affidiamo ai cittadini i cittadini che ci conoscono i cittadini che ci guardano in faccia i cittadini che guardano la nostra onestà la nostra sincerità e la nostra competenza attraverso la squadra che io sono riuscito a mettere in piedi che è formata da 16 componenti quindi anche la nostra squadra è una squadra completa che non manca di nessun elemento per cui noi ci daremo forza per poterci mostrare nel migliore dei modi ai cittadini per poter dimostrare che la nostra squadra è competente che riesca a fare veramente bene per il comune di Città Sant'Angelo abbiamo leve che sono di alto profilo professionale quindi avremo modo di dimostrarlo qualora e noi lo riteniamo che la cittadinanza ci scelga come nuova amministrazione e io dico il mio slogan fidatevi di Arturo D'Addona fidatevi affidatevi a Città Sant'Angelo e azione politica città in comune benissimo io ringrazio D'Addona ringrazio tutti e quattro i candidati sindaci uno di loro sarà il primo cittadino di Città Sant'Angelo il prossimo 26 anzi il 27 perché il 26 si vota ma poi si scultineranno prima le europee quindi poi i seggi si riapriranno il 27 e penso insomma all'ora di pranzo avremo questa designazione da parte degli elettori le nostre tribune proseguono venerdì avremo riflettori accesi sui tre comuni principali al di là di Giulianova del Terramano dove si vota con la nuova tribuna elettorale prossima settimana concluderemo con gli ultimi faccia a faccia tra i candidati sindaci di Montesilvano e Pescara grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Rete 8 arrivederci grazie